Buongiorno, noi siamo pronti, stiamo per decollare dall'aeroporto di Sigonella e potrò finalmente ritornare nella materia d'origine, la Puglia. Infatti questa mattina soluleremo la città di Bari dopo aver avvolto con il tricolore la città di Catanzaro. Fate i vostri scatti e condivideteli sui social e mi raccomando ben istanziati per la sicurezza di ognuno di noi.